Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Sì, e oggi siamo su Roblox Che volevo un pochino, diciamo Volevo giocare un po' con voi Roblox Volevo fare questa nuova serie, diciamo E vabbè, niente Vi volevo far vedere appunto Se volete giocare questa serie Insieme a me poi faremo anche degli episodi magari insieme E vabbè, niente, ora giochiamo un po' E niente Ora aspettiamo un po' Per chi non conosce questo gioco Si chiama Per chi non conosce questo gioco Si chiama Blade Ball Ed è, non è nemmeno facile Ed è però non meno di troppo difficile Dai Se volete poi farò tipo anche Cioè farò, non farò i episodi su Blade Ball ovviamente Farò tipo, non lo so Robrookhaven Quello che volete voi in poche parole Giriamo Ho quattro spin Quindi Che la fortuna Che la fortuna Sia con noi Ultimo spin Oh, mille monete Non ci fanno male Ehm, classico Ehm, non ho nient'altro Non è vero Ancora qualcos'altro Un'altra spin Oh, un'altra Oh, mi va bene Perché io ad ora posso fare un giro di spin No, no, no Togli, togli, togli Dopo proveremo a spinare la ruota Dato che ho quattromila monete Quindi Male, non ci fa Vediamo cosa troviamo Perché tipo c'è una ruota Che costa tremila monete Su questo gioco Che praticamente Puoi trovare Un sacco di robe Tutte le spade Tutte le robe Io ora Proverò a giocare Abbastanza bene Come potete vedere Dalle mie Win Non ci gioco da tantissimo Quindi Così E vabbè Poi Quindi decidevo di fare Altri episodi Sempre su Blade Ball Poi anche su Brookhaven Su Adoptimi Quello che volete Magari giocherò anche con voi Io ora mi sto impegnando Perché voglio vincere Quindi ho queste 11 vittorie Mamma mia Come l'ho ucciso Sì Ho questa Diciamo Questa Quando muore qualcuno A me spunta Diciamo Questa Scia Strana Perché ho sconfitto Tipo un boss Qua su Blade Ball Quindi ora C'ho questa roba Che l'ho vinta Sconfigendo un boss Che era tipo un drago Ora io mi impegno E voglio vincere Voglio vincere Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Finale subito Quindi ora Possiamo girare Vero? Si gira Ragazzo Si gira Posso girare? No 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 Io voglio girare No vabbè Dai giriamo dopo con calma E vediamo cosa troviamo Prima voglio vincere Questa partita Almeno Dai Questi video Non saranno Troppo lunghi Perché Vabbè È così Ragazzi Cioè I video di Roblox Sono sempre cortissimi Sempre stati Così E poi giocherò Anche con voi Come vi ho già detto E vabbè Niente Mamma mia L'ho ucciso Comunque stavo dicendo Che praticamente Ho sconfitto questo boss E ora c'ho questa scia Di quando qualcuno muore E c'è sta roba Mamma mia Due Siamo a due Doppia eliminazione Cosa qua Ce la meritiamo noi Dai Noi piccioni Noi piccioni Ragazzi No Ho sbagliato Cavolo Ragazzi Ti spiace Vincerò la prossima Però Ora giriamo Io tengo gli occhi chiusi Spini istantaneo Cosa vuol dire? In che senso? Posso Spini istantaneo Cos'è che devo fare? Non ho capito Ho degli spini No Non ho capito Eh Non ho capito Cosa posso fare Eh Non ho capito Mentre Prendo gli altri regali Di Babbo Natale Ragazzi Non vedo più niente Boh Ora vediamo Prima però Voglio vincere questa partita Comunque non abbiamo trovato Niente interessante Mi sa Cioè Anche perché Non so a cosa serva Cioè Dove si è saputo Magari Oh Finale Stand off Vuol dire finale Ragazzi Tu qua sulla torre Torre di Pisa Anche c'è l'ho con l'abilità Però Quella non è la stessa Perché la mia tipo Ti fa saltare super in alto Mamma mia ho vinto Sììììììììììììììììo Ora proviamo a vedere cos'è tipo sta roba, cioè, non ho capito, regalo, no, non ho capito, cioè, cosa serve? Eh, cosa fa? Sto spedito Antonio, me lo sto chiedendo, va bene, ricompense di accesso, no raga, sono buggato, via, ok, ero buggato, oh, dobbiamo vincere? Ok, però una palla è piano, voglio avere, ora che palla lo distruggo raga, mamma mia, l'ho cito, è piano, eh, sì, è doppia vittoria, è doppia vittoria, è doppia vittoria, non ci credo, non ci credo nemmeno, aiuto, non ci credo, perché mi dice claim now ma non mi dice niente, cioè, non capisco, Io sono 20 minuti di quella roba lì, cercherò domani, magari farò un altro episodio su Blade Ball perché questo gioco mi piace un botto, proprio tanto Eccolo Ah, come ho fatto ad auto uccidermi? Non ho capito Mmm, ok, va bene, la cosa è stata un po' strana però L'ho già presa sta cassa, perché qua mi dà la spunta verde Winter Spin, domani ci sarà la Winter Spin È l'ora perché non capisco io Non mi fa spendare No 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 Toggi Toggi tutta Hò subito finale, cioè, non ho fatto niente però va bene Non è che si vuole la battita subito, dobbiamo fare tre finali Vinte Va bene Va bene Va bene lo stesso Dai Per oggi giocherò solo questo Poi cambierò tutto Farò un botto Cos'è sta roba? Non capisco Christmas pin Non capisco Va bene Va benissimo Domani ci sarà la winter spin Vediamo cosa ci dà Ora io ragazzi Potrei comprare qualche cassa Però non lo so 80 monete ci vogliono Quindi non saprei E poi non ho mai trovato Niente di male C'è tutto brutto Uccido Voi direte che è facile Però a provarlo Fidatevi che non lo è Bisogna avere il timing Sono esplodi Come è appena successo A questo tizio Balletto di fornite Vabbè dai raga Spacchettamento Ma si dai Io non guardo eh Mi sa che ce l'avevo già Quindi ne prendiamo un altro Dai 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 Mi faceva un po' schifo Però Ho dovento di non vedere Perché così li confondo Tipo No mi ha bloccato Venga pure Mi ha bloccato Ragazzi Io volevo capire una cosa però Non voglio andare sulle abilità Le esplosioni Io ho queste Ah cosa non lo sapevo Carino Poi Spade Io ho tutte queste Che questa qua è la mia preferita Perché è quella che ho Che diciamo Che è bella E vabbè Volevo chiedere se Tipo si potessero vendere Però no Comunque Non capisco Questo babba natale Che mi dice Tre cose Cioè ho recuperato tutto Vabbè Dopo questo Mi sa che il video finirà Perché già durano Dieci minuti Quindi Dura come un video di FNAF Praticamente Comunque Domani uscirà un video Di Blade Ball Se riesco Se no Io domani Vi farò Se no Dopodomani Vi faccio Un altro video Di Roblox Sembra però non so Su cosa E boh Vediamo Però ora dobbiamo vincerla Questa è perché L'ultima forse 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 E ripeto forse Forse Ah Cavolo Perché non mi vengono più Quelle cose C'è un evento In 23 minuti Allora Dotto che c'è un evento Magari Tra 23 minuti Io Sapete cosa faccio Io stacco Ora E poi Tra 23 minuti Faccio l'evento Storo un po' Alline su Su Blade Ball E poi vi registro L'evento Così vediamo cosa riusciamo a vincere Ok Ciao Ciao